Una maratona notturna, così la nomina l'assessore al bilancio Raffaele Piemontese. La discussione del bilancio di previsione regionale 2017 è svoltasi ieri in via Capruzzi a Bari. Non aumentiamo le tasse, la prima battuta dell'assessore piemontese, anzi fa sapere che ci saranno più agevolazioni per le famiglie numerose e con figli disabili. Un bilancio che mobilita complessivamente circa un miliardo e cento milioni di euro. Tra queste cifre ci sono le risorse per le persone affette d'autismo, quadro già molto discusso nei mesi scorsi. L'incremento del 40% dei fondi per l'integrazione scolastica per disabili, incremento per garantire la mobilità agli studenti meno abbienti. Il diritto allo studio, infatti, è il perno sul quale sembra che si aggirino maggiormente i primi impegni per i fondi, anche e soprattutto dei fondi comunitari. Ma anche il reddito di dignità e il rafforzamento dei servizi sanitari, questi i punti chiavi sul quale si è discusso per un'intera giornata. Inoltre fa sapere l'assessore piemontese che 12 milioni e mezzo sono stati stanzati per aeroporti di Puglia e 2 milioni e mezzo per l'impiantistica sportiva. Nel bilancio di previsione appaiono anche 500 mila euro per le spese di funzionamento di biblioteche, musei e pinacoteche passate in mano dalle province alla regione Puglia. Tra queste anche la magna capitana e i musi del territorio di storia interattivo delle scienze. La prima commissione ha approvato a maggioranza il bilancio. Il prossimo step è la discussione in aula regionale.